Ciao da Catresai. Come sapete Catresai parla di una gatta e di un'attrice, quindi molto spesso quando ci spostiamo è per colpa mia, per motivi di lavoro, ma in ogni luogo che visitiamo riusciamo a scoprire delle piccole e grandi meraviglie perché l'Italia ne è piena. Qui a Trezzani abbiamo scoperto un luogo molto bello e ci teniamo a farvelo vedere. Buona visione, ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo viaggio. Grazie per seguirci, grazie per il vostro supporto, per il vostro sostegno e vi abbracciamo. Ciao da Catresai.